I nuraghi, sentinelle di pietra di un'antica civiltà. Introduzione vu i nuraghi, maestose costruzioni in pietra a forma di torre tronconica, sono la testimonianza più iconica della civiltà nuragica. Fiorite in Sardegna tra il XVI e il IX secolo hanno corrente sparsi in tutta l'isola, con una concentrazione media di un ogni tre chilometri quadrati. Questi giganti di pietra raccontano la storia di un popolo ingegnoso e tenace, capace di realizzare opere architettoniche di grande complessità e raffinatezza. Un viaggio nel tempo alla scoperta dei nurag la Sardegna vanta oltre 7000 nuraghi, di cui circa 2500 ancora visibili. Il loro stato di conservazione varia considerevolmente, da quelli quasi intatti a quelli ridotti accumuli di pietre. Tuttavia, anche in rovina, i nuraghi conservano il fascino di un'epoca remota, trasportando i visitatori in un viaggio nel tempo alla scoperta di una civiltà affascinante e misteriosa. Caratteristiche e funzioni dei nuraghi La costruzione dei nuraghi era un'impresa colossale che richiedeva notevole abilità ingegneristica e manodopera. Edificati con blocchi di pietra calcare accuratamente squadrati e giustapposti senza l'utilizzo di malta, i nuraghi potevano raggiungere altezze considerevoli, superando i 20 metri nel caso del nuraghe Tiscali a Oliena. L'interno dei nuraghi era un'intricata rete di camere disposte su più livelli, collegate da strette scale a chiocciola. Il piano terra era solitamente adibito a magazzino, mentre i livelli superiori ospitavano gli ambienti abitativi e, in alcuni casi, spazi dedicati al culto. Le camere erano illuminate da feritoi e aerate da condotti, dimostrando un'accurata progettazione e attenzione al comfort.L e funzioni dei nuraghi non si limitavano a quelle abitative. Si pensa che assolvessero anche un ruolo difensivo, grazie alla loro posizione strategica e alla robustezza della struttura. Inoltre, alcuni nuraghi complessi, circondati da un villaggio o da un recinto fortificato, potevano fungere da centri politici e religiosi, consolidando il potere delle élite nuragiche.i nuraghi oltre la Sardegna, tracce di una civiltà diffusa mentre la Sardegna rappresenta il cuore pulsante della civiltà nuragica, tracce di questa cultura si ritrovano anche in altre zone del Mediterraneo. Nuraghi simili a quelli sardi sono stati rinvenuti in Corsica, Baleari, Irlanda, Scozia e persino in alcune zone dell'Italia peninsulare. Queste testimonianze indicano che la civiltà nuragica non era isolata, ma intratteneva relazioni e scambi commerciali con altre popolazioni del Mediterraneo. La presenza di nuraghi oltre la Sardegna suggerisce anche possibili migrazioni o insediamenti di popolazioni, nuragiche in queste aree. I nuraghi, patrimonio mondiale dell'umanità. L'importanza storica e culturale dei nuraghi è stata riconosciuta dall'UNESCO, che nel 1997 ha inserito il sito archeologico di Barumini, con il suo complesso nuragico, nella lista dei patrimoni dell'umanità. Questo prestigioso riconoscimento sottolinea il valore universale dei nuraghi come testimonianza eccezionale di una civiltà unica e innovativa. I nuraghi, con la loro imponenza e complessità, continuano ad affascinare e incuriosire studiosi e visitatori. Rappresentano un lascito inestimabile di una civiltà che ha lasciato un segno indelebile nella storia della Sardegna e del Mediterraneo. La loro tutela e valorizzazione sono di fondamentale importanza per comprendere appieno le nostre origini e per preservare questo patrimonio inestimabile per le generazioni future. Grazie. Grazie.